ehi la amabile popolo di youtube bentornati innanzitutto grazie grazie per aver aspettato sapete che c'è stato un po abbiamo avuto un po di problemi con youtube ma siamo ripartiti siamo ripartiti e quindi ritornano i video regolari lunedì martedì mercoledì venerdì e sabato i 5 video settimanali oggi una bella partita ma la domanda è no di oggi ma quanto è forte jandis baro o jandis o jandais ma quanto è forte lei te lo va un po e poi e poi via e poi si diverte e davvero molto molto forte provatelo guardate questa partita che mi fa capire la potenza ecco mi fa capire tante cose e anche ci sono anche tanti spunti interessanti perché insomma ci sono tante cose da vedere guardatela perché secondo me merita davvero e i capelli sono bagnati e non sono sporchi sono appena fatto la doccia sono tutto bellino godetevi la partita let's go abbiamo il jandis baro se lo facciamo schifo anche con jandis c'è qualcosa di sbagliato e quello è effettivamente di poco van terrati e con jandis non è che non dirlo si può scherzare bisogna trovare bisogna trovare bisogna trovare bisogna trovare bisogna trovare bisogna assolutamente trovare e o i dannini contano eh che ci sono ma sei sei stai ah non è paese di darmi sped se non mi piace il problema è che hai paese di darmi sped non è da 4 o no ma esternali secondo me è la time io lo so ciao zaccone lo so cosa sta per succedere a vedere livellato perché ci devo fare caso a sta cosa perché potevo livellare anch'io no non era vuoto con jandis ragazzi a me sembra un ipogo bello sto shop no niente tripla ragazzi un po' maquinoso con me li fa di tripla sei che malvato ah lì questo è freddo la battaglia in furia là fuori lì vabbè lì vabbè 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 guarda l'island La mummia La mummia, la mummia Ciao che vi va? Buon pomeriggio La mummia I tuoi servitori hanno davvero dato tutto Livello, il gioco un po' La 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 ne mette che La 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 Io compio l'O2 Prossimo 2 No Continua così, forza E al suo gioco non ti fa più giocare E al momento non ho torto Ora compio il 3-3 e rimetto il Pogodente E' uguala Non credo di comprare lui E qui ci sono cose fighe Anche a lui Che mi rifrescia il Quello lì Sto avendo di tutti i 3-3 Sto avendo di tutti i 3-3 Oh Sto anche giocare a questo Sistema difensivo Attivato Tutto ciò è molto forte Allora Al prossimo 2 non livelliamo direi Buone possibilità di vincere Sì 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 No Ma Ci sai fare Vendo, vendo. E ho lo. Devo vendere. Lo posso fare, eh? Non credo sia sbagliato per forza. Eh, lo so come è stato un prodotto su defletto, però come facevo? Cioè, perdevo un buff su salta bot. E lui è stupendo. Si vince o si perde? Si vince o si perde? Si vince o si perde? Venghino, signori! Venghino, si vince! Ciao, DaiKai! Certo, DaiKai. Quanti di questi mi sono passati? Mi ripiglio tutti, eh? Per me è sempre meglio Pogo, comunque, non falle su di lui. Poteva anche fare su di lui. Ecco, la tripa di Pogo è un po' aggressiva qui. Per quanto... Non credo sia folle, però voglio mancare. Cioè, io voglio mancare con lui Pogo e cicciagò le mie titore. Cioè, non faccio una mozione po' è dita. Non chiedetemi cosa io ho fatto, ma... Quel Macao l'ho venduto. Cioè, è meglio fare voi all prima, sì, non faccio più piacere. Dai, non pigo! Venghino... 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 Sì 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 o scena o scena ragazzi c'è una cosa che peggio di così non si poteva la soddisfazione grazie al sap è incomparabile si la cosa migliore da trovare è la tripla di lui questo senso è un bello tieni la pressione è una mossa che mossa giri che ho provato non ci sono riuscito con dispiaciuto non ho paura di nulla questa è zappa addirittura zappa non è male è meglio diventiti nemici tanto non lo riesco a fare e cancro di noti da una 2 2 de merda la cosa figa è che con jandice poi hai sempre spazio per giocare la tua roba cioè è proprio forte servirebbero noio modi hai sempre spazio per giocare il quanti poco ho giocato come faccio a saperlo questa è a 31 mi pare questo più 22 22 la potrei posizionare in modo diverso potrei attaccare prima con idea via bot poi con l'uovo e quarta per con una cosa è peligro per se muovere la città è molto assistente buono attenzione contactata p Jr Deathwing è sul bat ci faceva bene bello che non ti pagai i pezzi di aver sai ma si per forza non c'è bisogno metteva forza lui vendi il fuoco dorato io ho visto la vera fine sempre meglio avere qualche servitore da giocare che palle che sei sembra lui è meglio di nuovo possibile donna così un secondo e voilà tutti scudi tutti scudi posso anche perdere comunque 22 poco giocati no non ho giocato dentro di lui è impossibile i tuoi servitori hanno davvero dato guardate come becco la scommettita dice voglio il Budelizius the amazing Budelizius questa cosa è totalmente sbagliata mi sento quasi in colpa quasi sistema difensivo attivato vuoi vedere qualcosa hai la vittoria in pugno sei in prima posizione dove è manca solo l'asso di bastone 60 al centro due margadoni trovati qui ha la bilde che mi canta qui ha l'asso di Capita a tutti ogni tanto Ti mette lui al posto di lui è al posto di baioni però Atenzione Venite con me Ah non c'è un Mennice Mennice è un momento Io sto parlando delle quelle ore E qui C'è un Mennice Non c'è un Mennice Mi sono arrivato Mi sono andati Mi sono andato Un momento Non c'è un Mennice Allora tolgo assolutamente devo togliere il Macao Questo lo possiamo triplare Perchè per il giro Perchè per il giro Perchè per il giro è danosa io so che non ho fatto i power potevo buffare un po' il coso ma non mi interessa no scuda bene vabbè glielo ne ho detto uno buono questo ok 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 grossissimi forno non credo di volere il bot è abbastanza inutile voglio barone potrei togliere seap e permettere barone lo toglie zappa lui delle scelte difficili tanto anche gli altri pogo si lì tanto gli altri pogo posso togliere lui vediamo vediamo buono questo bruttissimo questo che oscenità di trade ho fatto porca vacca che oscenità che oscenità no no è buono qui si si chiama malgatone si chiama malgatone si può giocare? lui lui si potrebbe triplare non è inutile triplare questo cosa completamente nulla non è non è non è non è non è non è più ti stanno puntando tutti Io ho 70% di win rate Che diamine Buono, buono, buono Vai, vai Nadina Vai, vai, spawna Nadina Spawna quello che vuoi Nadina Spawna quello che vuoi Nadina Spawna quello che vuoi Che fatica Bravi gli epobini Bravi gli epobini L'abbiamo spangata L'abbiamo spangata ragazzi L'abbiamo spangata Che tosta Che tosta Tutto merito del goal Eh sì Tutto merito del goal Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti